Colpo di scena, un materiale buono per un tweet, magari accompagnato dall'hashtag state sereni? Sulla questione del salario accessorio spunta un nuovo ed ennesimo verbale firmato e controfirmato dal Comune di Roma e sindacati di categoria dopo la nuova ed altrettanto ennesima riunione in Campidoglio per scongiurare altri scioperi e mobilitazioni come quelli di venerdì scorso. La notizia della firma congiunta su questo verbale arriva in tarda serata e si porta presso tutto il sudore di chi scoppia di caldo e deve dire qualcosa per giustificare una tregua, perché al netto delle strette di mano e delle pacche sulle spalle c'è, in sostanza, la comune intenzione di fare il bene della città. Il comunicato diramato ieri sera al termine della riunione sembra un cembalo che squilla, ma rileggendolo si ha l'effetto di essere vittima di uno scherzo del conte Mascetti in Amici Miei. Testuali parole. Arrivare in maniera condivisa, tenuto conto dei livelli retributivi già assicurati dalla disciplina decentrata dell'ente e del lavoro svolto fino a oggi, a un riassetto complessivo della macchina capitolina, al fine di renderla più efficiente per migliorare i servizi ai cittadini e per valorizzare le professionalità dei dipendenti capitolini. Mancava solo la splendida cornice del Marco Aurelio per completare un quadro che sembra commissionato a Turner, ma poi realizzato da Kandinsky. Bastavano due righe, insomma, per spiegare che la situazione sulla questione del salario accessorio o del contratto decentrato è in stallo e il braccio di ferro tra sindacati e vertici capitolini continuerà. In compenso, con svizzera puntualità, chiarezza e decisionismo rusveltiano, capiamo con dovizia di particolari che la Tari aumenta ancora e che il neoassessore scozzese promette tagli a società, dipendenti e patrimonio. E forse domani piove.